Tappa numero 18 del Giro d'Italia. Quest'oggi partiremo da Biadegrasso per arrivare a Prato Nevoso. L'orario di partenza è le 12 e l'arrivo alle 17 circa, percorrendo 198 chilometri di pianura padana da Milano per arrivare alla parte più meridionale del Cuenese e transitando dalle province di Milano, Pavia, Asti e Cuneo, nonché dai comuni di Casamonferrato, Alba e Madonna della Neve. Alcune informazioni utili per i nostri viaggi. Un'ora prima del nostro transito sarà interdetta la circolazione e occhio al cartello inizio gara ciclistica. Da quel momento in poi dovremo assolutamente fermarci e applaudire i nostri ciclisti. Giriamo insieme!